Sì, infatti, non c'è nulla, per cui la gente pensa che con la morte finisce tutto, la morte ha dovuto richiamarsi la realtà della vita eterna, e poi anche perché c'è stata sicuramente anche una caduta da parte della Chiesa nella predicazione, nel senso di presentare il Vangelo come soluzione a tanti problemi umani, ma non sul fine ultimo evento, la stradezza eterna delle anime. Quindi, quello che colpisce non è soltanto il fatto dell'esistenza dell'inferno, che è una verità di fede a cui la Madonna ci richiama, ma ci colpiscono altri due elementi che sono ben presenti in questo messaggio. Innanzitutto, a me colpisce molto il fatto che la Madonna sia a Fatima, sia a Mezzogoro, e dice che oggi molti vanno all'inferno. La Madonna spiega a Fatima che questo dipende anche dal fatto che noi non cooperiamo alla soluzione delle anime, cioè molti vanno all'inferno perché c'è nessuno che...